Finti dipendenti del Comune bussano alle porte degli anziani che a Favara hanno fatto richiesta del servizio di assistenza domiciliare. Scopo della visita è quello di far compilare le schede del servizio previsto dal distretto sociosanitario di Uno. A segnalare il caso sono i membri della Commissione Consigliare Solidarietà Sociale di Favara. In una nota il Presidente Giuseppe Rizzuto ed i consiglieri Giuseppe Bellavia, Salvatore Broccia, Calogero Castronovo e Salvatore Lupo ricordano ai cittadini che hanno fatto istanza che le persone che in questi giorni si recano nelle loro abitazioni non sono impiegati del Comune di Favara. I cinque consiglieri della Commissione ricordano altresì che quando sarà l'ora dell'erogazione del servizio di assistenza domiciliare, le persone richiedenti il servizio saranno convocate presso la sede comunale di Via Roma dove saranno liberi di scegliere la cooperativa che dovrà erogare loro il servizio di assistenza domiciliare.